Presiduta dalla consigliera Eleonora De Maio, la Commissione Politiche Urbane si è riunita questa mattina per discutere della variante urbanistica al piano regolatore nella zona occidentale, approvata a luglio scorso dalla Giunta Comunale su proposta dell'assessore Carmine Episcopo. È un atto che rappresenta una svolta nella gestione di una vasta area della città perché apre ai privati in un regime di convenzionamento la realizzazione delle attrezzature di quartiere, spazi sportivi, palestre, piscine, strutture socioassistenziali che prima andavano fatte esclusivamente con intervento e fondi pubblici. Gli obiettivi principali di questa variante sono naturalmente l'adeguamento della variante delle attrezzature perché sono previste all'interno della variante occidentale del 98 per l'area occidentale, l'adeguamento al regime, alla possibilità di realizzare queste attrezzature così come già previsto dal piano regolatore e quindi un adeguamento in questo senso tecnico. Però è chiaro che non si tratta solo di un adeguamento tecnico nel momento in cui si apre la possibilità della realizzazione delle attrezzature pubbliche e dunque parliamo di beni di primaria necessità per la città di Napoli, far sì che in questo processo possa intervenire anche il privato nella realizzazione della città pubblica in un regime convenzionato che tiene conto anche della proprietà privata e anche dell'intervento del privato. Per l'inizio del nuovo anno contiamo di poter portare questa variante in consiglio comunale e di poterla approvare. Soprattutto il tema era quello di approfondire che cosa significava la possibilità da parte dei privati di modificare le attrezzature pubbliche della zona ovest della città. È chiaro che ogni volta che si parla dei privati c'è una necessità di approfondire le tematiche che riguardano le attrezzature pubbliche perché i rischi sono sempre dietro l'angolo per cui la discussione è stata tutta incentrata più che alla questione della variante invece tutta la discussione che riguarda il regime di convenzione e quindi a come si controlla soprattutto una volta che queste attrezzature poi vengono date nelle mani dei privati come si controlla che non ci siano progetti e piani di speculazione ma invece come si incentiva che questi stessi privati diano servizi ai cittadini e alle cittadine della città.